Giornata di interrogatori qui al carcere San Donato di Pescara per De Leonibus e Trisi, due delle quattro persone arrestate nell'ambito dell'operazione Tana delle Tigri dalla Guardia di Finanza, accusati a vario titolo di corruzione, turbata libertà degli incanti, detenzione e cessione di droga e peculato. Trisi, secondo la procura, sarebbe responsabile di aver truccato appalti riguardanti la manutenzione delle strade a Pescara, nella sua qualità di dirigente del comune, sempre in favore di De Leonibus, imprenditore edile che in cambio l'avrebbe rifornito di droga, in questo caso cocaina, pagando numerose cene e consegnandogli varie utilità. Si avvanzo dalla facoltà di non rispondere, non abbiamo i documenti, dobbiamo esaminarli perché ne sono davvero tanti e in più in una condizione psicologica che potete immaginare, quindi avvieremo un'interlocuzione nei prossimi giorni con l'ufficio del pubblico ministero. Per? Per cercare di chiarire la posizione di questa persona. Dalla prima lettura delle carte? Non le abbiamo le carte, le abbiamo chieste, non le abbiamo ottenute, sono scatoloni di roba che dobbiamo esaminare, quindi quando le avremo lette sapremo fare una valutazione più compiuta. Ma lui perché è provato? Beh, è provato, puoi immaginare, è un'esperienza, non credo che sia da tutti i giorni. Le linee difensive sono individuali, insomma? Allora, niente, abbiamo raccontato come sono andate di fatti realmente. Cioè? Cioè che non c'è nessuna attività di cessione di sostanza stupefacente nei confronti degli altri indagati, abbiamo chiarito le situazioni, sottoposto a varie domande da parte dei sostituti che hanno condotto l'indagio e abbiamo chiarito la posizione del signor Ciarelli. Cosa si aspetta adesso? Ma aspettiamo come evolveranno le fatti e le richieste della procura, se il cariterrà di andare avanti ancora. Ha fatto le scelte processuali più opportune e quindi adesso attendiamo la risposta del GIP. Grazie, buona giornata. Grazie. Per entrambi gli arrestati, i legali difensori sono in attesa di reperire tutta la documentazione a carico dei propri assistiti per delineare una linea difensiva.